Papà, siccome la farina è scaduta, facciamo il gioco dei palloncini, please, per favore. Ok, andiamo. Ciao bimbi! Oggi cosa facciamo, Ali? Il gioco dei palloncini anti-stress. Sicuramente li conoscerete tutti perché li avrete visti alle varie fiere, le pancarelle, i mercatini, i cicchi, i circhi, i dappertutto, in tutti i mondi. Ecco, adesso vediamo cosa ci accorre. Palloncini, farina, una bottiglia di plastica, film di nanna per fare i capelli, pennarello, gli adesivo e i forbici. Palloncini, farina, una bottiglia di plastica, film 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, wow. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bimbi. Papi, non in realtà la farina non era scaluta.